Siamo in un'epoca di rivoluzioni e non mi riferisco solo alla pandemia che da circa un anno e mezzo ha stravolto completamente le nostre abitudini, infatti ci sono evidenze di trend in atto da anni che hanno già oggi un impatto fortissimo su come le persone vivono, lavorano e collaborano. E in tutto questo che ruolo ha la tecnologia? La tecnologia ha un ruolo sempre più centrale in quanto diventa il facilitatore di innovazione ma sono innovazioni che fanno bene alle persone e alle organizzazioni, questo in Zucchetti ce l'abbiamo molto chiaro tant'è che da sempre abbiamo la responsabilità di ripensare costantemente a come la tecnologia possa diventare un fattore di competitività. E' per questo che abbiamo voluto ripensare le nostre soluzioni con un nuovo approccio, un nuovo approccio ai processi HR e con il nuovo Zucchetti Human Revolution andiamo a centrare questa evoluzione, tant'è che noi abbiamo fatto evolvere le nostre soluzioni dove l'evoluzione di oggi non è più solo Human Resources ma una vera e propria Human Revolution. Zucchetti quindi ha ridefinito molto bene la sua offerta HR, l'ha ridefinita in un'altra ottica con una nuova prospettiva creando piattaforme applicative integrate e personalizzate che vanno a coprire qualsiasi target di mercato perché passiamo dalle micro imprese, alle PMI, le grandi aziende, la sanità, la pubblica amministrazione. Badate bene che queste sono piattaforme che hanno una caratteristica unica e peculiare, si basano su tre paradigmi fondamentali, base dati unica, cloud e tecnologia mobile.